Ben trovati dal Tg della mobilità, oggi dalle 22 scatta la fase 3 dei lavori di riqualificazione del ponte della Magliana. Sarà riaperta la carreggiata del viadotto in direzione Fiumicino e sarà chiusa quella in direzione EUR. Tutti i dettagli su romamobilità.it. È lunedì trasporto pubblico a rischio per uno sciopero di 24 ore indetto dai sindacati CUB e Cobas. L'agitazione interesserà l'intera rete ATA che bus periferici gestiti da Roma. TPL saranno comunque in vigore le fasce di garanzia, servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Possibili ripercussioni anche sulle attività pubblico di Roma Servizi per la Mobilità. A livello regionale possibili riflessi anche sul servizio Cotral. In ferrovie lo sciopero si svolgerà dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì. Dettagli e aggiornamenti su romamobilità.it.